Nella stanza conviene dire che qualcuno è entrato sia E la si è ritirata No, lo spettone io già delirò avanto Ma ad ogni costo vederla io voglio coerrarle Ma no, tu mi devi aiutare Che fugia, sì sì, aiuterò Da bravo, mentre oggi vuoi che tu mi introduchi in quella casa Dimmi come farai via del tuo spirito Vediamo qualche prodezza Nel mio spirito bene vedrò Ma in oggi via Intendo, va là Non dubitar di tua fatica e largo compenso avrai Davvero? Allora? Dunque oro a discrezione Oro a vizze e animo via Sono pronto Non sapete i simpatici effetti prodigiosi Che ha da pagare il mio signor conte al mar Che, 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 che Lindo oro Non c'è me la dolce della dell'oro Oh 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 oh